Argos deve essersi ritrasformato. Non importa, abbiamo un modo per intracciare anche Felix. Katami, non ti muovere! Sono venuta a salvarti da quel buon annullo. Noi siamo venuti a salvarti, Katami! Sono io che sono venuto a salvarti. Dusu, apri le mie fiume! Felix ha rapito mia figlia e voi volete impedirmi di salvarla? Da che parte state, Ladybug e Chat Noir? Seguimi! Non ci sfuggirai mai! Chi prendi quei due? Io prendo gli altri due e Felix! Dà loro una lezione, Milady! È questo che fanno gli eroi. Non solo avete aiutato quel mostro a fuggire, ma ora combattete me! Una madre che cerca di salvare sua figlia! Milady, se ci pensi, non hanno tutti i torti. Vogliamo la stessa cosa. Se lasciamo che loro salvino Katami, potremmo cogliere l'occasione di riprenderci il Miraculous di Felix. Troppo rischioso! Sono sotto l'influenza di Monarch! Signora Tsurugi, rifiuti la Megakume e ci lasci il compito di riportarle sua figlia sana e salva! Se non siete con me, siete contro di me! Cataclisma! La fuga è l'arma dei codardi e questo bastone è l'arma che porterà alla tua rovina, Chat Noir! Stiamo per perderlo! Ritrasformami! Ascom, se mi lasci qui, mia madre si calmerà, smetterà di attaccarti. Non sono qui per restituirti a tua madre, ma per liberarti da lei. Non ho bisogno che mi liberi da niente. Posso liberarmi benissimo da sola. Se fossi in te, non resterei qui. Sembra che tu non le piaccia. Non andrei da nessuna parte, Katami Pelenas! Sembra che neanche tu le piaccia! Mia madre finge di salvarmi e poi cerca di colpirmi con delle frecce. E non hai mai conosciuto mio padre. Era mille volte peggio. Ma non ti serve per combattere? Combattere non è più la mia priorità. Mi interessa solo la tua sicurezza. No! 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 Chiudi le mie piume! Plague! Trasformali! Non capisco. Se hai il Miraculous del pavone, perché non crei un sentimostro che ci tiri fuori di qui? Prima di tutto non chiamarlo così. Mi rifiuto di creare un essere solo per manipolarlo, controllarlo, usarlo. E finire per distruggerlo. So per certo dove trovare Marinette. Prima o poi. Dobbiamo trovare Marinette Dupencemi, Lady. È in fretta prima che la trovino loro. Il modo più sicuro e veloce è sconfiggere Oxer. Ma come la catturiamo? È ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo. Catturiamo qualcuno con un Alliance, glielo prendiamo e studiamo come funziona. Marinette Dupencemi! Ladybug, Chat Noir, che cosa è successo? Sei stato vittima di un super cattivo, ma risolveremo tutto. Quindi basta togliersi l'anello per sottrarsi all'influenza di Oxer. Buono a sapersi, ma non dobbiamo togliere l'anello a tutti, vero? Dobbiamo fare in modo che Oxer esca da un anello e si palesi, ma come? Eh... Fermate tutto, miei seguaci! Riesco a sentire che di voi si è tolto l'anello. O meglio, colui che Ladybug e Chat Noir hanno attaccato e derubato! Rivelazione! Ladybug e Chat Noir vengono da Saturno e fanno puzzette che distruggono lo strato di Ozono! Sono su un tetto vicino al municipio! Salviamo il pianeta, miei seguaci! Catturate Ladybug e Chat Noir e portatemi il loro miraculous! Salviamo la Terra! Quando ha privato a piano c'è il naso! Il vostro guardiano se la vedrà brutta a scappare da tutte queste rivelazioni! Rivelazione Milady Foxer è connessa a tutti gli anelli Alliance! Ecco come ha fatto a localizzarci! Non se lo rimetta al dito per nessun motivo al mondo! Lucky Charm! Ho un'idea! Ma mi servono degli oggetti molto speciali! Vado a prenderli! Nel frattempo, crea un diversivo! Nessun problema! Sono bravo a distrarre un nuovo pubblico! Da questa parte, chi vuole delle informazioni esclusive su Ladybug e il suo gattino? Secondo il Lucky Charm, la soluzione dovrebbe essere qui! Ma qual è? Avrò una notizia bomba per Ox! Ma che cosa... Ritrasformi! Che stai facendo? Mi serve che Scarabella tenda una trappola, Oxer! Lasciatevi! Da nessuna parte! Ben fatto, Oxer! Il Miraculous di Sciannuare è un buon inizio! Rivelazione! Gabriella Greste è un alieno che ha nascosto il suo disco volante sotto la piramide dell'Uvra! Deve avere altri segreti nascosti in casa sua! Senza che di veda per comunicarmeli userete i vostri telefoni, non i vostri Alliance! Farete così! E poi cancellerete ogni traccia dei vostri messaggi! Salvate il mondo, cari seguaci! Riferitemi ai segreti di Gabriella Greste! Ora siamo tu e io, Oxer! Ti sembra un tettatett questo, gattino? Quello di Ladybug non dovrebbe tardare, poi tutti i Miraculous saranno miei! Lì là! Sono io quella che vuoi! Eccomi! No! Che stai facendo? Giuleca, devi resistere! Altrimenti verrei accumizzata! Ricorda cosa ha detto Ladybug quando ti ha dato il Magical Cerno! Troveremo una soluzione! Mi ho rimasciato a pensare! Refletta! Sono Monarch! Ancora una volta si rifiutano di ascoltare la tua voce! Ma grazie al potere che sto per darti, finalmente tutti ti capiranno! Tanto bene che penseranno esattamente come te! Roar! Il tuo potere ora è mio! Trasferisci! Ti affido anche il potere della tigre! Con esso un singolo pugno metterà a tacere chi oserà resisterti! Giuleca, resisti! Puoi ricettare la puma! Restare insieme a tutti i costi? Che gran bell'idea hai avuto, caro Nino! Se siamo tutti identici, chi ci può impedire di stare insieme sempre e per sempre? Insieme per sempre! Insieme per sempre! Tiki, trasformami! Plagg, trasformami! Pugno! Insieme per sempre! Insieme per sempre! Insieme per sempre! Troviamo una soluzione prima che la città si riempia di reflecta! Di reflecta con il dono pugno della tigre! Non sarà facile! In questo caso... Lucky Charm! Si sono moltiplicate? Beh, allora dividiamole! Spero tu rieschi a tirarci fuori da questa situazione difficile! Insieme per sempre! Insieme per sempre! Non puoi toccare a questi panettieri! Amo troppo i loro croissant! Insieme per sempre! Magari dovresti chiederle che cosa ne pensa prima di suggerirle di cambiare lavoro! Oh no! Pugno! Pugno! Niente più malucante, Megacluma! Ladybug, contigge il male! Presa! Ciao, ciao, fa fallina! Miraculous Ladybug! Così! Cosìuxì! Così! Autore dei sovrapposti